Il corso dell'ultimo anno ha visto aumentare la consapevolezza, questa consapevolezza si è allargata all'interno delle aziende e quindi si è passato da parlare di normative e decreti e legge finalmente a gestire la fatturazione elettronica verso la pubblica amministrazione. Adesso però è necessario fare un passo in avanti rispetto a questo traguardo e affinché l'obbligo si trasformi quindi in benefici diventa fondamentale ripensare i processi per adottarli in nuove forme. L'approccio alla digitalizzazione in modo più allargato affrontando l'automazione e l'intero processo sarà quello che aiuta comunque l'integrazione e l'automazione trasformando gli investimenti in benefici. Secondo Thesis Square la fattura non deve essere la gestione di un documento legato ad un processo di document management, bisogna rovesciare questo concetto. Infatti la fattura deve essere un pezzo di processo dell'intera supply chain. Partendo quindi da questo concetto la competenza necessaria diventa trasversale, infatti la fattura interessa diverse aree all'interno di un'azienda. La contabilità, l'amministrazione, la logistica, i trasporti, aree dove Thesis offre da anni soluzioni su questi ambiti. Occorre avere competenze per la fatturazione anche cross border dove l'azienda lo richiede. Dal punto di vista tecnologico le soluzioni devono essere neutrali, scalabili, adatte a coinvolgere grandi aziende e piccole imprese. Thesis Square vuole essere un partner solido con competenze sia verticale che orizzontali su questi processi, che gestisce quindi relazioni collaborative tra i vari attori della supply chain.